Se accendono i miei ricettori allo Stato di San Nicolato, questa è la parola che vedrà off-poste, pari e modena. In Modena di Bersellini invece navigano le alte bassissime della classifica, ma il successo interno contro la Casartana ottenuto nel momento di turno per 3-1 è un buon viatico per questa difficile trasferta pugliese. Tutto è pronto, dirigerò la gara al Signacollina, Bari e Modena sono pronte per darsi battaglia. Spazza un tiro, rarissimo, Alberga rispondere e poi progna con l'aiuto di un altro difensore, spazza all'aria. Gian Paolo, dalla sinistra, spazza il tiro e trova la parata di Meani con poi Bosi che riesce a liberare. Il tiro del giocatore Slavio con il portiere Meani che si trova ben piazzato sulla conclusione del difensore con licenza di attaccare del Bari. Bosi che si tirava in torno per centraire il tiro e alberga rispinge. Il tiro e c'è il gol. Il pallone viene indirizzato perfettamente dall'attaccante del Modena e pertanto quando sono giunti al 42esimo Bari 1 Modena 1, Agliarmi risponde Pro Vitali. il tiro e però trova il portiere del Bari ben piazzato. e il suo tiro è libero, il mio sin problema per me è che mi sono giunti al 55esimo. vedi azione, palla che esci in calcio d'angolo Bari che rischia davvero tantissimo contro questo Modena spregiudicato il tiro e ancora una volta alberghe in uscita disperata ci mette una pezza il tiro, palla che si infila alle spalle del portiere, clamorosamente Modena ribalta la partita e passa in vantaggio come siamo giunti all'86esimo, il gol di Pro Vitali attenzione perchè sembra un po' di attesimo, il gol di Pro Vitali e cercando di coraggiare il Modena ad agire in contropiede con Cucciari con la palla che potrebbe sancire il definitivo successo dei Modena sul difficilissimo campo di dare il tiro, la tocca con la punta delle dita al Berger rimandando quindi la capitolazione dei suoi attenzione perchè sono in pieno di punti, sono in conti, sono in conti il successo per Cuglino se ne sono andati quando Boban ha il pallone buono per il pareggio va al tiro, palo, e sul palo di Boban muoiono le speranze del Bari e dei suoi tifosi di recuperare una partita che sembrava vinta, infatti il direttore di gara non ci pensa su due volte fischia la fine del match, Modena che spugna quindi San Nicola in modo clamoroso 2 a 1 sotto di un gol e ha saputo ribaltare la partita un successo comunque meritato per quanto messo in mostra dalla squadra di Bersellini che ha affrontato a viso aperto un Bari che doveva sulla carta fare un sol boccone dei Canarini è tutto da San Nicola ripetendo il punteggio Bari 1 Modena 2 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti